Buongiorno, scusate, c'è stato un cambio di collegio, quindi è chiamato il procedimento numero 51 del 2009 nei confronti del dottor Giuliano Mignini, presente, difeso dal dottor Antonio Patrono, anche gli presente, presente rappresentante della procura generale e chiederei al dottor Mignini se ha consente al collegamento con Radio Radicale. Sì. E allora possiamo dar corso al collegamento, passerei la parola al consigliere Ponte Corvo per la relazione. La relazione è già stata espletata. Sono già fatta? Sì. E allora, ci sono richieste? No, il dottor Mignini quando ritiene renderà delle dichiarazioni spontanee. Allora può farlo subito, non può farlo subito se ritiene di rendere le dichiarazioni spontanee. Prego. Posso farlo. Stia, stia pure subito, non ci preoccupi. Io ringrazio la sezione disciplinare del fatto che mi viene concesso di poter rendere queste dichiarazioni e di poter... Si usa una cortesia di parlare direzionalmente al microfono, che sono unidirezionali, i mezzi non sono molto potenti. Va bene così? Sì. E quindi mi riporto comunque alle memorie, due memorie che sono state depositate specialmente alla seconda, mi pare, del 26 settembre 2016 e ai documenti allegati. Ecco, cercherò di essere estremamente sintetico perché la vicenda è molto complessa e si è prolungata nel tempo. Innanzitutto il procedimento iniziale di cui non parlano i capi di incolpazione è un procedimento a carico di ignoti, il numero 17.869.01.44 su un ipotizzato omicidio di questo medico. La vicenda non ve la sto a fare, è molto lunga e inizia un mese dopo esattamente l'ultimo delitto dei duplici omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. Dalle indagini che io faccio, faccio due accertamenti, in particolare poi riassunzione a informazioni, c'è una, dispongo un'autopsia perché all'epoca il cadavere che era scomparso da cinque giorni non era stato oggetto di autopsia, di accertamenti specialistici, era stata diagnosticata la morte per annegamento da probabile episodio sincopale ma per accertare l'annegamento occorre assolutamente l'autopsia. Non fu nemmeno spogliato completamente, non fu chiamata all'epoca il medico legale dell'Università di Perugia, professoressa Francesca Barone che aspettava al lago di essere chiamata, fu chiamata invece una dottoressa diciamo piuttosto giovane che doveva solo certificare la morte di questo medico, quindi non fu misurata la temperatura rettale e questo creò dei problemi sull'ora della morte, non vi sto a dire, non fu praticamente fatto quasi niente di questo cadavere. Nonostante un dispiegamento di forze sul pontile di Sant'Arcangelo che aveva qualcosa di incredibile, era presente il questore il dottor Francesco Trio fin dal momento in cui il cadavere era stato rinvenuto perché i tempi o delle foto se volete poi ve le faccio vedere che mostrano che lui era presente sul pontile quando il cadavere fu issato sul pontile. Vi era la squadra mobile, vi erano i carabinieri, vi era uno spiegamento di forze diciamo molto molto incredibile con divieto ai curiosi di avvicinarsi a questo cadavere ma a questo spiegamento di forze non corrisposero le necessarie attività di riscontro sui cadaveri. Quindi l'autopsia che io affidai a un medico esterno, io non c'era ovviamente nel momento in cui c'era il dottor Federico Centrone che ritenne di non fare, di non disporre l'autopsia. Quindi io arrivai, tanto per dire, 15 anni dopo in seguito ad una notizia di reato che ritieni di dover approfondire. Da questo accertamento autoptico venne condotto da un luminare che era il professor Giovanni Pierucci, titolare della cattedra di medicina legale dell'Università di Pavia, venne fuori. La morte del Narducci per omicidio, in particolare per strozzamento e in particolare perché era emersa la frattura vistosa del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide avvenuta in vita. L'uso di meperidina, che non era però tale da provocare, era un uso costante ma sempre abbastanza controllato. Vi era l'assenza di diatomee e di segni di annegamento, quindi il cadavere era morto, l'uomo era morto in acqua, ma nel Narducci, oggetto dell'autopsia di Pavia, non vi erano segni di annegamento. Ma la cosa fondamentale, quella che ha condizionato, che mi ha spinto a fare molte indagini, perché fu il fatto clamoroso e del tutto inaspettato, noi non ce l'aspettavamo minimamente, il fatto che il professor Giovanni Pierucci mi disse, guardi qui, già l'aveva anticipato nella consulenza ripetibile, ex articolo 359, che gli avevo fatto fare sugli atti, guardi qui, non mi torna niente, perché il cadavere, oggetto delle foto, le foto che noi abbiamo sono state scattate di nascosto da un fotoreporter della nazione, il quotidiano che si legge a Perugia, e queste foto evidenziano un cadavere, il cadavere ripescato nell'85, in avanzato stato di trasformazione cadaverica, alto, è stato poi accertato un metro e sessanta, e con una circonferenza addominale di 60 centimetri. Il Narducci era alto 1,82, era snello, aveva una taglia 48 small, su cui sotto i pantaloni addirittura c'era posto per un telo, un telo che noi sul momento non riuscimo a decifrare, non aveva alcuna apparente utilità, aveva dei pentagrammi e un consulente chiamato dall'assistente del professor Pierucci, ascrisse questo telo a una ritualità massonica arcaicizzante, con funzione, e questo mi allarmò insomma sul momento, con funzione punitiva, come se questo soggetto, questa persona fosse stata volutamente come degradata, ecco questa era la spiegazione che veniva data. Allora a questo punto io mi rendo conto che vi era stata una grave messa in scena da parte delle autorità che erano presenti sul pontile, c'è anche la falsificazione di due certificati di accertamento morte, ma non sto a dire tutte le anomalie che vi furono in questa vicenda, che emersero anche dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti. Il personaggio centrale di questa vicenda, di questa messa in scena, è il questore Trio, amico di famiglia dei Narducci, che senza averne titolo perché non è un ufficiale di polizia giudiziaria, il questore si presenta e dirige le operazioni come se si trattasse di una... io ho le foto qui, se volete poi le posso far vedere, ma dirige le operazioni come se fosse un'operazione di ordine pubblico, erano presenti anche i vigili del fuoco di Arezzo che dovevano essere partiti in anticipo anche loro. Allora che succede? Apro, tanto per essere breve, il procedimento 89-70, quello che viene citato, lo apro dopo i risultati di questa consulenza autoptica e iscrivo a carico una serie di reati relativi anche a soppressione di cadavere, uso illegittimo di cadavere, eccetera, e altre cose, falsità in atto pubblico, eccetera. Iscrivo i familiari del Narducci e queste autorità. La vedova di questo medico, la signora Francesca Spagnoli della famosa casa industriale di Perugia, invece ha sempre collaborato con le indagini e fra l'altro non le è stato fatto vedere il marito. Dal 9 novembre 2001 questo procedimento è collegato, su richiesta del dottor Paolo Canessa, è collegato con quello sui mandanti dei duplici omicidi di Firenze e quindi queste due indagini vengono unite, vengono collegate. Io trasmetto a Canessa gli atti, lui mi trasmette i suoi. Il rapporto è stato ottimo per un certo periodo. a un certo punto, nonostante che ci fossero nell'ambiente fiorentino degli ostacoli dovuti soprattutto ad una antipatia personale che qualche magistrato aveva per il dottor Giuttari che era dirigente della squadra mobile di Firenze. A un certo punto il dottor Giuttari deve lasciare l'ufficio, deve lasciare l'ufficio di dirigente della squadra mobile perché il dottor Nannucci e il procuratore e il questore di Firenze De Donno ritengono di doverlo avvicendare doverlo avvicendare con un altro. Canessa mi prega, mi chiama, mi prega, dice dammi una mano aiutami perché ho bisogno dell'apporto dell'ottor Giuttari per la sua, perché è la memoria di queste indagini. Io non avevo bisogno perché lavoravo con i carabinieri con cui mi sono sempre trovato molto bene in questa vicenda soprattutto e quindi lavoravo anche con l'aliquota carabinieri della sezione, però sono venuti incontro al collega, ci siamo attivati ed è stato costituito su provvedimento del ministro dell'interno Pisano mi pare e del capo della polizia, il dottor Giuttari è stato messo alla disponibilità delle due procure collegate con una dotazione di uomini e di mezzi, abbiamo la documentazione che è stata depositata circa la costituzione del GIDES. Quindi che cosa succede però? Che c'erano evidentemente delle resistenze, adesso non sto a soffermarmi, ma nel provvedimento che io ho prodotto si dice che il questore De Donno doveva allestire la sala intercettazioni della caserma Il Magnifico in località via Gori 60 Firenze perché stavano fra l'altro, erano in corso le richieste di autorizzazione alle intercettazioni da parte del collega Canessa e il GIP Antonio Crivelli stava per autorizzare le intercettazioni con un provvedimento che anche esso è stato prodotto. e quindi Giuttari sollecita questa messa a disposizione, niente da fare, ci sono numerosi solleciti che passano in vano, addirittura anche c'è anche uno storno di auto che vengono mandate da livello centrale a Firenze al GIDES e che vengono poi stornate, vengono mandate poi dal questore alla squadra mobile. Cioè c'è una situazione di grossa difficoltà perché il questore, secondo me, questo poi io ho preso dei provvedimenti, ho iscritto poi come vedremo, ma volevo andare per ordine. Quindi nel 2003 viene costituito GIDES che doveva indagare e ha il GIDES riscuota dei successi notevoli perché praticamente a un certo punto nel corso del 2003 tutto quello che si diceva della presenza, della frequentazione da parte di questo medico dei luoghi dei delitti, San Casciano in primis, ma anche la zona del Galluzzo, della Firenze, della zona della Certosa, vengono confermati. C'è una serie di persone già testimoni al processo dei compagni di merenda che confermano la presenza di questo giovane medico e quindi il GIDES ottiene questi grossi risultati. Nel 2004 che cosa succede? Adesso può darsi che qualche particolare mi sfugge, ma succede questo, grosso modo. Le indagini, sia quelle fiorentine sul farmacista di San Casciano Calamandrei, sia le indagini perugine sui personaggi del pontile, diciamo così, finiscono contemporaneamente. Quindi c'è la proroga delle indagini e gli indagati vengono a sapere di essere indagati. Appena questo succede, succede il pandemonio perché il questore trio si reca alla Dipartimento di Pubblica Sicurezza e per esigere un anno dopo la messa a disposizione di Giuttari, a disposizione delle due procure, l'allontanamento di Giuttari e quindi la fine, la liquidazione del GIDES. Che cosa succede poi? Un intervento, una intervista abbastanza banale di Giuttari, fra l'altro su un suo libro, su un suo giallo, non sulle indagini, ma che coglie, dà lo spunto al giornalista per interrogarlo anche per fargli qualche domanda su questo, provoca una forte reazione, una forte reazione nell'ambiente di San Casciano, l'ambiente anche politico e succede che si crea praticamente una, escono una serie di articoli, il primo dei quali non particolarmente, io ce l'ho, se volete poi anche questo è a vostra disposizione, il primo dei quali non particolarmente virulento, non particolarmente critico, che in cui si dice c'è la pubblicazione dell'invito del capo della polizia a Giuttari non esagerare, la frase Giuttari non esagerare è una riservata che è stata mandata a Giuttari e che qualcuno ha diffuso sulla stampa, ha diffuso alla stampa. Poi c'è un altro episodio che mi, questo decisamente mi insospettisce perché io mi muovo ancora nell'ottica del questore trio che è l'artefice per me della messa in scena del pontile, perché lui che sapeva tutto e lui che è intervenuto, non poteva dire, lui è intervenuto sicuramente considerati i tempi, adesso non mi dilungo su questo ma è fondamentale, considerati i tempi fra Perugia e Sant'Arcangelo ci vogliono 40 minuti, tre quarti d'ora e lui è presente sul pontile già mezz'ora dopo il rinvenimento del cadavere, quindi lui, i giornalisti, gli amici del medico eccetera. Quindi Giuttari e trio va al Viminale, diventa il portavoce di questi indagati Fiorentino e Perugino e chiede l'allontanamento del dottor Giuttari e la fine delle indagini. Un'altra riservata ancora più grave, qui sento veramente c'è qualcosa che veramente non mi torna, viene data notizia del siluramento del dottor Giuttari in un momento in cui lui stava tranquillamente lavorando e si dice nell'articolo che era stato il procuratore di Firenze a dare questa notizia. C'è qualcosa, quindi evidentemente non aveva avuto i Giuttari, non aveva ricevuto alcun provvedimento di questo tipo, quindi a questo punto io ecco le ragioni di rilevanza delle indagini nei confronti dei giornalisti, dei giornalisti e dei funzionari, perché i due giornalisti risultano in contatto con i funzionari. Vediamo che cosa c'è. Fra l'altro la rilevanza deriva anche dal fatto che io procedo dopo pochi giorni per associazione per delinquere. Io ritengo che in un procedimento per associazione per delinquere considerate queste premesse fosse del tutto necessario e rilevante capire chi e perché voleva l'allontanamento, la liquidazione di questo organismo. Questi sono quindi i primi, diciamo io ho rimesso un po' in ordine cronologico gli episodi, perché gli episodi, gli ultimi episodi sono i primi, sono del 2004. Poi c'è i fatti C e D relativi al questore de donno. Qui la cosa è molto semplice. Giuttari mi trasmette, io chiedo a Giuttari fammi un elenco, l'elenco di tutti gli episodi in cui vi è stato un ostacolo alle indagini, sono stati frapposti ostacoli alle indagini. Lui mi trasmette una informativa nel 2005. Io, l'informativa dice, è stato avvisato, è stato sollecitato a mettere a disposizione la sala intercettazioni. Una volta, due volte, tre volte. Poi già erano pronte le autorizzazioni del GIP Crivelli, dovevano partire le intercettazioni, non potevano partire perché il questore non aveva provveduto ad adottare la sala intercettazioni del Gides, adottare il Gides della sala intercettazioni. A questo punto le due procure hanno dovuto noleggiare, con costi e contenzioso che potete immaginarvi, gli apparati di intercettazione. Per me questo, l'ho detto allora, lo ripeto qui, è una mia valutazione di magistrato, è una notizia di reato di omissione dati d'ufficio, favoreggiamento, perché le autorizzazioni erano in corso. Quindi io confermo pienamente, uno degli addebiti è che io lo avrei, avrei scritto questa persona senza che emergesse una notizia di reato. Per me era una notizia di reato. E il giorno dopo, non si dice, ma il giorno dopo ho trasmesso il fascicolo a Firenze, perché Firenze era competente. Io non capisco, ecco, non capisco, da che cosa? Ecco qual è il problema. C'è un altro punto, l'audizione del giornalista Rosario Poma. Il giornalista Rosario Poma è stato sentito un anno dopo, un anno dopo, non c'entra niente con la questione del donno, perché posso? Perché io mi ero fatto un'idea che nell'ambiente della nazione si fosse a conoscenza di notizie rilevanti su questo personaggio perugino, perché un giornalista, Mario Del Gamba, un giornalista molto intelligente della nazione, mi fece presente che lui era stato anche lui alla nazione per molti anni, aveva avuto l'impressione che, e notava che su questo personaggio si tornava, cioè questo personaggio ritornava periodicamente all'attenzione dei magistrati, degli inquirenti. Ecco, questo è il, e quindi io ho ritenuto di sentirlo. Io qui, queste dichiarazioni del 6 marzo 2006 sono state prodotte, io ce le ho, non so, sono state prodotte, queste dichiarazioni sono la prova che io ho, il mio interesse per Rosario Poma è un interesse investigativo, gli chiedo, gli faccio le domande, ha mai parlato delle indagini perugine sulla morte di Francesco Narducci? E lui risponde, a un certo punto omette volontariamente e in maniera plateale un particolare che io gli chiedo, non poteva invocare, infatti non l'ha invocato il segreto professionale, io ho sospeso l'audizione ex articolo 63. Quindi, cioè, fra l'altro il GUP potito di Torino ha escluso, perché dice non è possibile che una verbale di assunzione a informazioni provochi un danno ingiusto e quindi l'abuso d'ufficio finisce con, in ipotesi, con la trasmissione della informativa e con la iscrizione della notizia di reato di De Donno. Quindi, vado avanti e cerco... Poi c'è Tessandori, fatti A e B, è l'ultimo episodio. Ci sono degli errori nei capi di incolpazione, si richiama sollecito, si richiama un procedimento che non c'entra niente, si richiama quello di cui stiamo parlando. Ecco, questo... Ecco, quindi Tessandori. Tessandori, anche lui, era un giornalista della Nazione. Era... Quindi, questo mi interessava per... Non lo sto a spiegare in dettaglio perché è un po' complessa della vicenda. Questo mi interessava per la questione dell'omicidio. Perché... Allora, ve lo dico perché così è giusto che... Questo è... Il 13 aprile 87, e me lo ricordo perché era il mio compleanno, quindi... Io leggo sulla Nazione una notizia secondo cui la dottoressa Della Monica, che era stata aggiunta a Perugia e che è stata aggiunta anche nel periodo dell'autopsia, mi ha assistito, è stata presente quando io ho disposto l'autopsia, l'autotoressa Della Monica avrebbe ricevuto un qualcosa, un altro segnale dal cosiddetto mostro, oltre all'oggetto che le era stato mandato nell'85. E c'è nel corpo dell'articolo questa frase che mi ha colpito. Gli inquirenti fiorentini sono rimasti sorpresi dal fatto che il mostro si rifacesse vivo perché pensavano che dopo il suicidio di un macellaio di Montecatini e di un medico al lago Trasimeno, ma questo di Montecatini veniva più in subordine, e di un medico al lago Trasimeno, la questione mostro fosse in pratica superata. Questa è una cosa che mi ha molto colpito. Ecco perché io ho sentito i giornalisti, Tessandori, Poma, Tessandori anche per un altro motivo, perché Tessandori parlava con Spezzi e voleva scambiare battute con lui, confidenze con lui, nell'imminenza della misura cautelare nei confronti. E quindi Spezzi era un personaggio che era indagato in quel momento per una, oltre che per l'omicidio, perché c'era stata una denuncia nei suoi confronti, oltre che nei confronti del farmacista Calamandrei, era indagato anche per un'operazione di calunnia continuata, calunnia formale e calunnia reale, ed è tentata calunnia reale nei confronti di un membro dell'ambiente sardo, cioè del nipote di Francesco Vinci, Antonio Vinci. Si trattava di denunciarlo, è stato denunciato infatti alla questura, da un personaggio legato a Spezzi, alla squadra mobile di Firenze, e si trattava poi di far rinvenire degli oggetti legati ai delitti in una villa di Capraia e Limite, Villa Bibbiani, dove Spezzi ed altri avevano fatto anche dei sopralluoghi. Si trattava quindi di chiamare la polizia, mettere questi oggetti, far fare la perquisizione, vedete che è vero che Antonio Vinci, che frequentava questa villa, custodiva questi oggetti, e far accusare questo povero disgraziato. Quindi, questo è il motivo, fra l'altro, anche qui, verbale d'assunzioni di Tessandori, io l'ho prodotto, anche qui si vede, e io gli domando, cose assolutamente rilevanti per le indagini. Quindi, fra l'altro, un altro punto che volevo... Non viene iscritto, allora, su qualche punto si dice, tu devi rispondere perché hai iscritto ma non c'era la notizia di reato. Per me c'era, e lo ripeto, lo ripeto qui, non so che cosa devo dire. Per me c'era uno che omette, nonostante il provvedimento di dotare è una sala, provvedimento del capo della polizia, e lo fa nonostante le autorizzazioni, le intercettazioni, per me, in ipotesi, il reato c'è. Adesso, invece, il discorso è diverso. Tu non l'hai iscritto. Tessandori non l'hai iscritto. E certo, non è stato mai indagato. Lui è stato, come si vede anche dal verbale, di assunzione a informazioni, lui è stato sentito come persona informata sui fatti. Altro punto che volevo... Poi ho finito. Quando si dice tu hai iscritto, non hai iscritto, io quando iscrivevo, mandavo gli atti al capo della procura, dottor Nicola Miriano, il quale vistava il provvedimento, vistava l'iscrizione. E quindi, ed era un visto che, in realtà, più che un visto era un'approvazione, perché dottor Miriano riteneva che il visto fosse condizione per l'iscrizione della notizia di reato. Quindi se lui diceva, no, questo non l'iscrivi, non veniva iscritto. Quindi lui ha sempre vistato, e quindi ha sempre approvato queste iscrizioni. Anche, quindi, un'altra cosa, non ho capito, mi si dice, dovevi dare avviso al Tessandori di alcuni atti, fra cui le intercettazioni. Io, questo non... Non lo so, ecco, questo ovviamente non ritengo che fosse... Ecco, quindi io gli ho dato il tempo, l'ho citato, lui non è voluto venire perché voleva essere citato con rogatoria, e quindi poi io l'ho aspettato, a un certo punto mi ha detto, sono a disposizione, vengo da quelle parti, va bene, venga pure se vuole. Quindi, ecco, questo è tutto quello che volevo dire. Io non ho compiuto degli atti in una situazione di difficoltà non trascurabile, ostacoli di tutti i tipi, non sto a dilungarmi su questo, l'ho fatto con assoluta, come tutti mi conoscono, con assoluta tensione verso la ricostruzione della verità reale dei fatti, in una vicenda in cui ci sono stati moltissimi che, purtroppo, e sono anche finiti indagati, hanno reso dichiarazioni reticenti o false. Vi ringrazio. Grazie a lei. Ci sono altre richieste istruttorie, neanche da parte della Procura. Allora, spendiamo un attimo. Grazie a tutti.